Quanto tempo perdiamo ogni giorno per la posta elettronica? Quanti sono i messaggi che tutti i giorni ci fanno sprecare energia e perdere la pazienza? Quanti sono i giorni all'anno che buttiamo via a causa di queste mancanze di efficienza e di questi sprechi di tempo causati dalla posta elettronica? Certo, oggi la posta elettronica è uno strumento del quale non si può fare a meno. È uno strumento utile, ma bisogna imparare ad usarlo nel modo corretto per evitare di perdere tempo e di perdere efficacia e di perdere anche la pazienza. Una formula sperimentata e consolidata ci dice che i giorni all'anno che dedichiamo alla posta elettronica sono pari al numero di messaggi che riceviamo e spediamo ogni giorno di posta elettronica. Ricevere 100 messaggi al giorno o gestire 100 messaggi al giorno vuol dire dedicare 100 giorni all'anno a questo strumento. Vogliamo risparmarne un 20% con alcuni suggerimenti? Con gli strumenti e i metodi che troverete in questo programma presente sul sito insegnalo.it imparerete a risparmiare tempo, a essere più efficaci e più chiari e ad avere un uso della posta elettronica più diretto e soprattutto meno dispendioso con un guadagno di pazienza oltre che di tempo e di serenità.